Pieric sull'ottimo recupero di malavettura, Pieric ha un'autostrada, va a schiacciare facendo esultare il pubblico del paraferraris. Un saluto a tutti i Televideos Basket, un saluto a tutti e speriamo che sia una stagione a vincere. Spero che ti divertisci la season, sarà divertente. Ciao a tutti gli amici Televideos Basket. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Ciao.